Il campionato di Serie A, del prossimo anno comincerà sabato 17 agosto, per terminare domenica 25 maggio 2025. Sono state sorteggiate le 38 giornate della Serie A, 2024 fratto 2025. Dai big match con la Juventus al derby col Milan, ecco il calendario completo con evidenziate le gare dell'Inter. Dal derby col Milan alla Juve, il calendario Serie A, dell'Inter, sorteggiato il calendario della Serie A, 2024 fratto 2025 interlive. It.l'isordio dei campioni d'Italia sarà in casa del Genoa, al Meazza la seconda contro il Lecce. Il primo derby col Milan ci sarà già alla quinta, quello con la Juve alla nonna. L'ultima giornata in casa del Como.prima giornata.Bologna Udinese. Cagliari-Roma.Empoli-Monza.Genoa-Inter.Verona-Napoli.Juventus.com Lazio-Venezia.Lecce-Atalanta. Milan-Torino.Parma-Fiorentina Seconda giornata.Cagliari-Como.Fiorentina-Venezia.Verona-Juventus. Inter-Lecce.Monza-Genoa.Napoli-Bologna.Parma-Milan.Roma-Empoli. Torino-Atalanta.Udinese-Lazio.Terza giornata.Bologna-Empoli. Fiorentina-Monza.Genua-Ellas-Verona.Inter-Atalanta.Juventus-Roma.Lazio-Milan.Lecce-Cagliari.Napoli-Parma.Udinese-Como.Venezia-Torino. Quarta giornata.Atalanta-Fiorentina.Cagliari-Napoli.Como-Bologna.Empoli-Juventus.Genoa-Roma.Lazio-Verona.Milan-Venezia.Monza-Inter. Parma-Udinese.Torino-Lecce.Quinta giornata.Atalanta-Como.Cagliari-Empoli. Fiorentina-Lazio.Verona-Torino.Inter-Milan.Juventus-Napoli. Lecce-Parma.Monza-Bologna.Roma-Udinese.Venezia-Genoa.Sesta giornata. Bologna-Atalanta.Como-Verona.Empoli-Fiorentina.Genoa-Juventus.Milan-Lecce.Napoli-Monza-Monza. Parma-Cagliari.Roma-Venezia.Torino-Lazio.Udinese-Inter.Settima giornata.Atalanta-Genoa.Bologna-Parma. Fiorentina-Milan.Verona-Venezia.Inter-Torino.Juventus-Cagliari.Lazio-Empoli.Monza-Roma.Napoli-Como.Udinese-Lecce. Ottava giornata. Cagliari-Torino.como-Parma.Empoli-Napoli.Genoa-Bologna.Verona-Monza.Juventus-Lazio.Lecce-Fiorentina.Milan-Udinese.Roma-Inter.Venezia-Atalanta. Nona giornata.Atalanta-Verona.Bologna-Milan.Fiorentina-Roma.Inter-Juventus.Lazio-Genoa.Monza-Venezia.Napoli-Lecce.Parma-Empoli. Torino-Como.Udinese-Cagliari.Decima giornata.Atalanta-Monza.Cagliari-Bologna.como-Lazio.Empoli-Inter.Genoa-Fiorentina.Juventus-Parma.Lecce-Verona.Milan-Napoli.Roma-Torino.Venezia-Udinese. Undicesima giornata.Bologna-Lecce.Empoli-Como.Verona-Roma.Inter-Venezia.Lazio-Cagliari.Monza-Milan. Napoli-Atalanta.Parma-Genoa.Torino-Fiorentina.Udinese-Juventus.Dodicesima giornata.Atalanta-Udinese. Cagliari-Milan.Fiorentina-Verona.Genoa-Como.Inter-Napoli.Juventus-Torino.Lecce-Empoli.Monza-Lazio.Roma-Bologna.Venezia-Parma. Tredicesima giornata.Como-Fiorentina.Empoli-Udinese.Genoa-Cagliari.Verona-Inter.Lazio-Bologna.Milan-Juventus.Napoli-Roma.Parma-Atalanta.Torino-Monza.Venezia-Lecce. Quattordicesima giornata.Bologna-Venezia.Cagliari-Verona.Como-Monza.Fiorentina-Inter.Lecce-Juventus.Milan-Empoli.Parma-Lazio. Roma-Atalanta.Torino-Napoli.Udinese-Genoa.Quindicesima giornata. Atalanta-Milan.Fiorentina-Cagliari.Genoa-Torino.Verona-Empoli.Inter-Parma.Juventus-Bologna.Monza-Udinese.Napoli-Lazio.Roma-Lecce. Venezia-Como.Sedicesima giornata.Bologna-Fiorentina.Cagliari-Atalanta.Como-Roma.Empoli-Torino.Juventus-Venezia.Lazio-Inter.Lecce-Monza. Milan-Genoa.Parma-Verona.Udinese-Napoli.17.Atalanta-Empoli.Fiorentina-Udinese.Genoa-Napoli.Verona-Milan. Inter-Como.Lecce-Lazio.Monza-Juventus.Roma-Parma.Torino-Bologna.Venezia-Cagliari.18.Bologna-Verona.Cagliari-Inter. Como-Lecce.Empoli-Genoa.Juventus-Fiorentina.Lazio-Atalanta.Milan-Roma.Napoli-Venezia.Parma-Monza.Udinese-Torino.Diciannovesima giornata. Atalanta-Juventus.com.Milan.Fiorentina-Napoli.Verona-Udinese.Inter-Bologna.Lecce-Genoa.Monza-Cagliari.Roma-Lazio.Torino-Parma.Venezia-Empoli. .20.Giornata.Bologna-Roma.Empoli-Lecce. Genoa-Parma.Lazio.com.Milan-Cagliari.Monza-Fiorentina.Napoli-Verona. Torino-Juventus.Udinese-Atalanta.Venezia-Inter.Ventunesima giornata. Atalanta-Napoli.Bologna-Monza.Cagliari-Lecce.com.Udinese.Fiorentina-Torino.Verona-Lazio.Inter-Empoli.Juventus.Milan. Parma-Venezia.Roma-Genoa.22.Giornata.Como.Atalanta.Empoli-Bologna.Genoa-Monza.Lazio-Fiorentina.Lecce.Inter.Milan-Parma. Napoli-UV.Torino-Cagliari.Udinese-Roma.Venezia-Verona.23.Giornata.Atalanta-Torino.Bologna-Como.Cagliari-Lazio.Fiorentina-Genoa.Juventus.Empoli. Milan-Inter.Monza-Verona.Parma-Lecce.Roma.Napoli.Udinese-Venezia.24.Giornata.Cagliari-Parma.Como.Juventus. Empoli-Milan.Verona-Atalanta.Inter-Fiorentina.Lazio-Monza.Lecce-Bologna.Napoli-Udinese.Torino-Genoa.Venezia-Roma.25.Giornata.Atalanta-Cagliari.Bologna-Torino.Fiorentina-Como.Genoa.Venezia. Juventus-Inter.Lazio-Napoli.Milan-Verona.Monza-Lecce.Parma-Roma.Udinese-Empoli.26.Giornata.Cagliari-Juventus.Como.Napoli. Empoli-Atalanta.Verona-Fiorentina.Inter-Genoa.Lecce-Udinese.Parma-Bologna.Roma-Monza.Torino-Milan.Venezia-Lazio.27.Giornata. Atalanta-Venezia.Bologna-Cagliari.Fiorentina-Lecce.Genoa.Empoli.Juventus-Verona.Milan-Lazio.Monza-Torino.Napoli-Inter.Roma.com. Udinese-Parma.28.Giornata.Cagliari-Genoa.Como.Venezia.Empoli-Roma.Verona-Bologna.Inter-Monza.Juventus-Atalanta.Lazio-Udinese. Lecce-Milan.Napoli-Fiorentina.Parma-Torino.Ventinovesima giornata.Atalanta-Inter.Bologna-Lazio.Fiorentina-Juventus.Genoa.Lecce. Milan.Como.Monza-Parma.Roma-Cagliari.Torino-Empoli.Udinese.Verona.Venezia-Napoli.Trentesima giornata.Cagliari-Monza.Como.Empoli. Fiorentina-Atalanta.Verona-Parma.Inter-Udinese.Juventus-Genoa.Lazio-Torino.Lecce-Roma.Napoli-Milan.Venezia-Bologna.Trentunesima giornata. Atalanta-Lazio.Bologna-Napoli.Empoli-Cagliari.Genoa.Udinese. Lecce-Venezia.Milan.Fiorentina.Monza-Como.Parma-Inter.Roma-Juventus.Torino-Verona.Trentaduesima giornata.Atalanta-Bologna.Como.Torino. Fiorentina-Parma.Verona-Genoa.Inter-Cagliari.Juventus.Lecce.Lazio-Roma.Napoli-Empoli.Udinese.Milan.Venezia-Monza.Trentatreesima giornata. Bologna-Inter.Cagliari-Fiorentina.Empoli-Venezia.Genoa.Lazio.Lecce.Como.Milan.Atalanta.Monza-Napoli.Parma-Juventus.Roma.Verona.Torino-Udinese.Trentaquattresima giornata.Atalanta-Lecce.Como.Genoa. Fiorentina-Empoli.Verona-Cagliari.Inter-Roma.Juventus.Monza.Lazio-Parma.Napoli-Torino.Udinese-Bologna.Venezia.Milan.Trentacinquesima giornata. Bologna-Juventus.Cagliari-Udinese.Empoli-Lazio.Genoa.Milan. Inter-Verona.Lecce-Napoli.Monza-Atalanta.Parma-Como.Roma.Fiorentina. Torino-Venezia.Trentaseiesima giornata.Atalanta-Roma.Cagliari.Empoli-Parma.Verona-Lecce.Lazio-Juventus.Milan-Bologna.Napoli-Genoa.Torino-Inter.Udinese-Monza.Venezia-Fiorentina.37 giornata. Cagliari-Venezia.Fiorentina-Bologna.Genoa-Atalanta.Verona.Com. Inter-Lazio.Juventus-Udinese.Lecce-Torino.Monza-Empoli.Parma-Napoli. Roma-Milan.Trentottesima giornata.Atalanta-Parma.Bologna-Genoa. Como-Inter.Empoli-Verona.Lazio-Lecce.Milan-Monza.Napoli-Cagliari. Torino-Roma.Udinese-Fiorentina.Venezia-Juventus.